Stromae, sapete cosa significa? Beh, all'età di 17 anni aveva un gruppo e il nome del gruppo era Suspicion. Il suo nome d'arte era Ops Maestro e quindi dall'inversione delle sillabe che compongono la parola maestro è diventato Stromae. Il suo vero nome è Paul Van Ake, nasce a Bruxelles nel 1985. Sicuramente lo conosciamo tutti con il brano All'or on dance ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche europee anche in Italia e all'attivo con quattro album, l'ultimo uscito nel 2022 quest'anno e il titolo è Multitude. Gli altri erano Cheese uscito nel 2010 e Rassinkaré uscito nel 2013. Lui ha avuto un padre che è stato ucciso nell'aprile del 1984 purtroppo durante il genocidio del Rwanda e per questo ha preso ispirazione per creare la canzone Papà Ute.